...200 paesi collegati, probabilmente a livello di telespettatori siamo sulle miliardi. Le formazioni, la Juventus, Buffon tra i panni, poi Turano, Ferrara, Tudor e Montero, confermato quindi Montero difensore a sinistra, centrocampo a quattro, classico, Zandrotta, Daviz e Tachinardi Camoranesi, davanti Treseguet del Piero, quindi le scuse birindelli che qualcuno dava in formazione. Vediamo come risponde il Milan, vita tra i panni, Costa-Curca, Nesta, Maldini, Calazzi, Milo, Playmaker, che accusa la sua destra, sedo sulla sua sinistra, lui costa più avanti, alle spalle di Shevchenko e Inzaghi. Lui si riesce, anche perché c'è spazio, poi Inzaghi, Inzaghi, prova a centrarsi, Inzaghi, mette in mezzo, Shevchenko attenzione, sinistro, diviato rete, rete. Attenzione, c'è l'assistente che segnala qualcosa, l'assistente segnala qualcosa, il gol è annullato. Il gioco, rivediamo, il gioco per Inzaghi. Largo, c'è Shevchenko che chiama palla, gli arriva in qualche modo, c'è un giocatore davanti a Buffon, attenzione. Inzaghi, dato, Seedorf è pronto a cross, è retrato Inzaghi, Buffon incredibile! Miracolo di Buffon, Inzaghi già pregustava il gol. Riparte il Milan, c'è spazio, c'è un cento e mezzo, Rui Costa dal limite, Rui Costa, destro, attenzione! Il pallone esce di niente, Rui Costa vicinissimo al gol con Buffon. Attenzione, verso Del Piero, Del Piero, di destro, Dita! Si salva in angolo. Speckio ridottissimo per Del Piero, che è riuscito a coordinarsi bene, ha cacciato anche con forza. Rancorca di Seedorf, Zambrotta fa fuori tutto il 2, Seedorf è inzaghi, poi va sul fondo, ancora, mette in mezzo. La palla ancora lì, all'indietro, tattinarvi, loro cross, lento però, si avvita Calazze, rovesciata, Vidal, ci arriva! Rivido, Zambrotta non riesce a tirare, non è finita! Incredibile! Seedorf, Zerchenzaghi, non lo trova, si allarga il pallone, Calazze, attenzione! Prova il tiro, Calazze, Buffon! C'è l'indagli su secondo paro, ha attrazzato la testa in zona del Piero. Pronto al nuovo cross, l'effetto è tagliato, come in testa! Sulla traversa, Trezeghelli! Sarà calcio ad angolo, proprio Conte, protagonista, incredibile! Quindi così non poteva fare Conte, si è potuto trovare nel momento giusto, lui che ti può, sta controllando. Partico ha steso le mucche proprio di testa! Rivido! Tirata di Tachinardi, lo ha perso, anticipato poi, non è riuscito a trovarla... Roque Junior vuole la palla, invece dall'altra parte c'è Serginio, palla per lui! Serginio, mette in mezzo, teso! Non va! L'azione perfetta, fantastica dei milanisti! Questa ce la fa! Pronto al cross, mette in mezzo, ha messo fuori Maldini! Merch controlla e finiscono i 90 minuti! Dunque, 0-0, si va ai tempi supplementari! Si comincia allora, vi ricordo ancora, se ci fosse un gol in questo primo tempo supplementare, non terminerebbe subito la partita! Se andrebbe avanti fino a 15esimo! L'ho ripetuto più volte perché è una regola abbastanza fermata da Valdini! Soderfè, anticipato da Tachinardi, c'è Salageta, Rosini, colpisce, c'è Conte, sinistro! Non va! Bravo Salageta, aspettava qua in testa per Conte che ha... Zambro, tasconda Turan! Punto alle Merch, termina il primo tempo supplementare, dunque ci sarà il secondo! Quindi, comunque fino al centoventesimo! Si avvicina il momento del verdetto finale! Tutto pronto per il secondo tempo supplementare! In ogni caso, a questo punto vedremo 15 minuti ancora di gioco! Senza gol, o comunque se si dovesse mantenere l'equilibrio, magari anche con un gol per parte, allora calci di rigore! Lippi sembra tranquillo, dal suo punto di vista adesso è finita, ha fatto tutte le scelte così come Ancelotti, ha diretto la squadra durante tutti i centoventi minuti, ha designato i rigoristi, ha stabilito l'ordine, ha provato a caricare i suoi e adesso i giocatori provano a caricare Dita. Primo duello, parte Treseghe, attenzione, tiro, Dita! Incredibile! Primo miracolo! Dita è rimasto abbastanza fermo fino alla... Stessa lunghezza, parte Serginio sinistro e rete! Serginio non sbaglia! Anche lui non guarda Buffon, guarda per terra, guarda il pallone... ...per Birindelli, in destro ed è rete! Dritto per dritto, Birindelli è difficile che tratta il pallone Dita, si è mosso questa volta... Passi brevi, Severs, tiro... Buffon, incredibile miracolo! Qui era difficile la parata! Anche se... Lunghissima la rincorsa, lunghissima! Zalagetà, parte la rincorsa, tiro... Dita! Ha intuito! Nessuno guarda il corso... Tira col sinistro anche lui... Calazze, tiro... E Buffon, si salva! Optano tutti per la soluzione forte, calciata... Tiro di Montero... Tiro di Montero... Dida ancora! Vediamo... Nesta... Se porta in vantaggio il Milano... Nesta destro... Ed è rete! Rete, Nesta! Non sbaglia Nesta! Freddo e lucido, questa volta ha angolato la palla... Una responsabilità terribile per Del Piero... Dida è rimasto fuori dalla porta fino all'ultimo... Azione... Parte Del Piero... Destro... E non sbaglia! Del Piero non sbaglia! Grande credenza... Ha accorciato il pazzo... È arrivato vicino alla palla... Tutto il sospeso... E' attesa di più di Sercego... Ci si gioca tutto qua... Sercego contro Buffon... Medio contro Orman... Può partire... Sercego, tiro... Ed è rete! 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 Il Milan è il campione d'Europa! Il Milan è il campione d'Europa! La sesta volta nella sua storia! L'esplosione di entusiasmo incontenibile! Il presidente Berlusconi rimane immobile! Il Milan ha i calci di rigore e vince! Dopo 40 anni... Sarà un altro maldini dunque a danzare la Coppa dei Campioni nel cielo di Inghilterra! Come Cesare a guerra nel 63!